Il confronto di stamattina con il sindaco Foti, durato poco meno di un'ora, non lo ha tranquillizzato appieno. Nel presidente del comitato di gestione, Antonio Caputo, restano tutte le preoccupazioni per la prossima stagione teatrale del Gesualdo di Avellino. Lui, l'avvocato Maglietta e la Iandiorio, freschi di rinomina da parte del sindaco dopo la bagarre in consiglio comunale, restano nel limbo. Non ci può essere programmazione se prima non si ha una panoramica completa e precisa dei conti della passata gestione del teatro. Il nostro lavoro, dice Caputo, non può prescindere da quello del commissario liquidatore Chiauzzi. Io sono convinto che i due percorsi, sia quello della gestione ordinaria del teatro, che la liquidazione dello stesso, siano in qualche modo concatenati. Ma abbiamo una necessità che in qualche modo deve essere condivisa, cioè quella di essere solerti nell'affrontare le singole poste di spesa, perché questo è l'unico modo per liberare delle risorse in direzione del teatro. Per ora non abbiamo impostato alcun tipo di lavoro, aggiunge, non abbiamo individuato neanche il promoter. Sono ritardi che vanno necessariamente recuperati. Non c'è nessun lavoro in questo momento messo in campo e né si poteva fare, perché ancora va individuato il soggetto promoter della stagione teatrale. Stanno lavorando alacremente, come mi è stato riferito, sull'argomento, ma attento che tutto ciò, anche questo, vada in una rapida soluzione, perché il ritardo evidentemente non gioca a nostro favore.